Andiamo avanti, è meglio con un'altra notizia, veramente, ah, c'ho la notizia Dunque, continua il processo di ammodernamento dell'immagine al TG1 Oltre alla sigla e alla veste grafica, adesso è stato rinnovato anche il look delle giornaliste Vediamo senza dubbio il look delle giornaliste Guardate, Bruce Springsteen Guardate il vestito nuovo di Lilli Gruber e quello di Maria Luisa Busi Sono praticamente uguali, si vede che dietro c'è la mano dello stesso stilista Sapete chi è lo stilista? Ma sì, sono io la stilista, quel gran pezzo dell'Arnalda, tutta a centro, tutta a calda Sto preparando la mia ultima creazione, un bel taglierino per Bruno Vespa Modestamente al TG mi sono fatta una grossa esperienza come sarta Taglio e cuccio, sì, ai giornalisti taglio le notizie e gli cuccio la bocca Punto croce, punto scudo, punto croce, punto scudo Aspide, e come cuciva, come cuciva Lo sa che cosa? Invece di fare quel punto lì, io questo qui me lo sono fatto tutto a solo Guardate che se lo sa che seccate ci parla molto anche lei È vero Ciao 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 Ma lega bene Un pezzo di ragazza Lega bene signora Mi faccio sentire Non ci assomiglia molto Scandolo alla corte d'Inghilterra, mentre si parla di divorzio tra il principe Andrea e Sara Sarà? 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 Tutto dove sarà? Sarà? Sarà Un libro rivela le infedeltà coniugali di Lady Diana Sentiamo cosa ne pensa l'interessata, perché io sono curiosa Voglio vedere cosa pensa Grazie Oh, si parla tanto della crisi tra mio cognato Andrea e Sara Ma già il giorno del matrimonio era cominciato a male Infatti al momento di scambiarsi gli anelli, invece della fede Andrea gli ha messo un teschio Sì, perché Sara gli uomini li riduce pelle e ossa Quella satanata Oh, pure io e Carlo siamo in crisi Sì, e ci credo Come si fa ad andare d'accordo con un tontalone simile? A me nessuno mi può fare fesso, porca caruba Ma di chi è questa mano? Forse è la mia A me dicevo nessuno mi può fare fesso per il semplice fatto che io sono troppo furbo Porca caruba Ve lo giuro, sulla testa del canguro Si è fatto rubare portafogli e documenti e anche la patente Sì, perché Carlo è uno scemo potentato Spassosa, spassosa Oh, proprio bella questa Pronto? Pronto, signora? Non mi funziona più l'altro Talifano Vedi un po', è il suo Talifano Pronto? No, signor Letta Gianni Letta Non posso ci con lei Anche questa sera Oh, il Gabibbo Ah, scusi Scusi, credo fosse un'altra persona Ah, chiedete la frase Willi, Gabibbo Adesso arrivam E so, vedi, grazie E prego E grazie, Gabibbo Pronto? Asticinateli Sì, strano Oggi non si è ancora visto il Gabibbo Avrà avuto dei problemi con l'auto Brum, 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 brum Eh, vai rumeno Della macchina è troppo lenta Questa qui nel motore Non c'ha i cavalli C'ha le tartarughe Ma ci credo Guarda che macchina hai, Gabibbo Cambiala Prendi un'auto da corsa Sì, con una Ferrari di Formula 1 Saresti sempre il primo Eh sì, con una Ferrari Sarei sempre il primo Sì, il primo arrivare ai box È bella, è bella, è bella Questa è satira da pole position Va bene, ragazza E passatevi un po' Un litrosso di Lipton Ice-T Che mi faccio al pieno Glug, glug, glug È bella di sta macchina Come beve la macchina Ma anche il pilota D'altronde Lipton Ice-T È da Formula 1 Nei gusti Limoni Pesca e mandarino Con un litro faccio tanti chilometri E vado via È di gusto Se il caso è troppo serio Chiamate lui Il tenente Leslie Mason Implacabile con i criminali Infallibile con le donne Impensabile nei riflessi Indispensabile alla legge Una pallottola spuntata Prima visione Lunedì 23 marzo Carale Cine 0-2-70-13-88 Fatelo per telefono Abbonatevi a TelePiù Entro il 31 marzo Vi regaliamo due mesi di abbonamento TelePiù In modo migliore Per vedere il cinema in tv Ringo La tua carica per vincere Oggi ti fa vivere le emozioni Del grande sport Sì Oggi Ringo ti regala Gli Olympic Stemmi Sei stemmi di Barcellona 92 In tessuto Da applicare dove vuoi Olympic Stemmi Uno in ogni confezione Da sei merende Di Ringo Pavesi Con 3600 stazioni di servizio Kuwait in tutta Italia È un po' come se fossimo noi A venire da voi Dovunque sei Metti la friccia E trovi Kuwait Io vivo fra la gente Io, la Mara Ranazzotti Piacere da bere Guarda, ho la prova Papà, papà Sono venuti a prendermi Riguarda anche voi Venite Solo colgate Ha dimostrato clinicamente Che la sua formula con fluoro e calcio Raddoppia la protezione contro la carica Allora È come se mi lavo i danzi Due, due volte? Sì Il calcio che c'è in colgate Si fissa sui denti Li protegge E li mantiene Forti, forti Colgate fluor più calcio Forti, forti Da oggi questo sarà il profumo della nostra casa Ti piace? Sì, mi piace Ha qualcosa di magico Glad Pyramid Da oggi il profumo della tua casa C'è la grande operazione Yomo La natura è viva Con tutti i prodotti Yomo La natura ti premia Anche con questa t-shirt Yomo Yomo Fermenti vivi 02 70 13 88 Fatelo per telefono Fatelo entro il 31 marzo Vi regaliamo due mesi di abbonamento Questa settimana su Panorama Elezioni di piombo Tutti retroscena del delitto Lima E un'intervista esclusiva con Andreotti Stanchezza Dieci regole d'oro per vincerla In regalo i mille che hanno fatti il nostro secolo Panorama Tutto quello che devi sapere Ed eccoci di nuovo qui con voi Con la signora Coriandoli al ritocco Prego Sì, perché mi faccio le uglie Perché tutte le sere Mentana Mi bacia la mano Nel corridoio dello studio Signora, non si russinghi Fa la stessa cosa Anche con Berlusconi Asquide Sigla Gabinco Come ne importa niente Lo sa Come ne importa Mea C'è sempre uno Che lui l'aveva già detto Professore Ma sei scemo? Provi sempre un rapanello Con le visce nel cervello Ti ha previsto questo e quello Ma sei scemo? Ieri ha detto che è così Oggi invece che cosa? E ragione sempre c'ha Ma sei scemo? Chi non santa è un professore Eh! Eh! Chi non santa è un professore Eh! Eh! No! Professore Cucino Vai! Ma che anguscia Che mi fai? Ma sei scemo? È boh? È boh? Arrivederci a Striscia la notizia Con Lipton Ice-D Lipton Ice-D Fenomenale! Buonasera Tra poco per il ciclo filmissimi Vedremo in prima visione tv Il film Aquile d'attacco Con Louis Gossett E Mark Humphrey Un film di guerra Con riprese aeree Di grande effetto Nel quale solo in estremi Si riuscirà ad evitare la tragedia Buona visione Seat Toledo Vi presenta il film di questa sera I want it all I want it all I want it all Per entrare nella natura basta scoprire una magica bontà. Gardena Loaker, una golosità al cioccolato, ripiena di fragranze. Casa Loaker, che bontà. Sì, referendum. I partiti non possono cambiare nulla. Il referendum sì. Il 5 aprile vota la lista che ti garantisce il referendum. Le persone al posto dei partiti. Lactis, dal nostro latte, nasce lo yogurt fresco di giornata. Lactis, buon latte non mente. Perché corro tutti i giorni? Mi piace correre. Mi fa sentire in forma. I miei capelli. Corro e devo lavarli tutti i giorni. Uso lo shampoo delicato Johnson's Baby. Johnson's Baby Shampoo. Così delicato che puoi usarlo tutti i giorni. Basta così poco per sentirsi in forma. Una corso, una doccia e uno shampoo. Baby, baby, baby. Johnson's Baby Shampoo. Ogni giorno, quello delicato. Pasti veloci? Qualche bicchiere in più? Troppi dessert? Il colesterolo è un nemico per le tue arterie. Lecinova, con una dieta equilibrata, aiuta a prevenire l'eccesso di grasso nel sangue e a mantenere pulite le tue arterie. Lecinova, l'anticolesterolo secondo natura.